Buongiorno e benvenuti alla segna stampa di oggi, lunedì 27 novembre. Vediamo cosa c'è sui giornali. Intanto sui giornali oggi ci sono due grandi notizie di quelle che valgono zero. Non perché di per sé non siano importanti, ma perché come le trattano i nostri politici valgono zero. La prima è la violenza sulle donne, che è una cosa fondamentale, importante, ma viene trattata come materia da campagna elettorale. E la seconda è sulle fake news, che esistono ovviamente, ma il rimedio che si cerca è peggiore del male. E soprattutto chi parla di fake news probabilmente su internet ci va molto poco o conosce la rete quanto io conosco la fisica quantistica. Beh, l'intervista di oggi sul Corriere della Sera di Laura Boldrini è una cosa straordinaria. Servono più soldi contro la violenza sulle donne. Allora, a me non mi è chiara una cosa. Abbiamo fatto le leggi, le abbiamo inasprite, le abbiamo rese più dure. Ho scoperto che in Francia, l'ha detto ieri Macron, ci sono 123 femminicidi. Ma ragazzi, ma siamo così convinti che i soldi nostri di uomini, donne, bambini, vecchi, pensionati, lavoratori, debbano essere investiti in queste minchiate di centri che vorrebbe la Boldrini? Siamo convinti che tutti questi soldi non vanno a finire come sono andati a finire. Ve lo ricordate quel ragazzo beccato del centro antidiscriminazione voluto dalle Carfagna, dalle Boschi, cioè da tutte le donne che una volta che arrivano al pari opportunità pensano che questo sia l'emergenza del secolo? Che è un'emergenza? No, è un problema. Come tutti i problemi bisogna affrontare. Beh, quel ragazzo, ve lo ricordate, che poi utilizzava i soldi pubblici nostri non tanto contro la violenza sulle donne ma per i club discambisti che legittimamente possono esistere. Chi se ne frega, io sono favorevolissimo al club degli discambisti, ma non con i soldi nostri. E servono più soldi contro la violenza della donna. Con quest'atto dolente la Boldrini ha preso posizione. Poi dopo il tema molto simile me lo trovo sul Repubblica, in cui c'è un approfondimento lungo sulla violenza nei confronti delle donne. E poi vedo un numero sparato a pagina 5-4 di Repubblica. 6,7 milioni di donne sarebbero, sono, anzi il numero è sono, non c'è il condizionale, hanno subito violenze tra i 16 e i 64 anni. Allora ci dobbiamo mettere un po' d'accordo qua. Intanto, cosa vuol dire violenza? 6,7 milioni tra i 16 e i 64 hanno subito violenza. Vuol dire che una donna italiana su tre ha subito una violenza in Italia. Ma questo mi sembra un numero che dà il senso della follia alla quale ci stiamo appellando. Perché una cosa è la violenza, una cosa è la molestia, una cosa è l'ingiuria, una cosa è la maleducazione. Perché allora possiamo mettere che sono 15 milioni, cioè tutti coloro che partecipano a Facebook, che hanno subito una violenza, un insulto. Quante persone mi hanno insultato su Facebook e insultano tutti Facebook. Ma è un numero questo che si può dare? Ma veramente dobbiamo creare un'emergenza laddove il problema esiste, ma non è di emergenza e deve essere trattato approfondendolo, conoscendolo, ma non con questi numeri dello stracavolo. Ma la cosa che è più straordinaria, questo numero, 6,7 milioni di donne che hanno subito violenza in Italia, cioè una donna su tre ha subito violenza in Italia, che cita oggi Repubblica, è quello stesso giornale che oggi apre a tutta pagina dicendo battaglia alle fake news, ci vuole una legge contro le fake news. Allora mi chiedo al giornale di carta stampata, non è soltanto Repubblica, il giornale, il Corriere della Sera, tutti i giornali, ma voi che fate i fenomeni contro la rete e contro internet? Mi dite dove avete preso questo numero? 6,7 milioni, qual è la fonte? Quali sono i criteri della violenza? Quali sono le dimensioni? Quali sono le verifiche che mi avete fatto? Questo vale come una catena di Sant'Antonio che ho ricevuto stamattina su internet, con un aereo, con dentro dei serbatoi, con una deficiente, una serie di deficienti che dicevano che quelle erano le scie chimiche, ed erano gli strumenti per produrre le scie chimiche. E' lo stesso identico valore, le scie chimiche che ho ricevuto stamattina in una mail alle 8 e mezza, con la Repubblica che ho letto stamattina alle 8 e mezza, che mi tira fuori un dato di 6,7 milioni sulle violenze nei confronti della donna. E' una cosa incredibile, incredibile. Andiamo avanti sulle notizie, vabbè, Berlusconi e Renzi fanno il mestiere loro, lo fanno anche quelli del Movimento 5 Stelle, adesso tutti promettono tutto, Berlusconi con questa idea incredibile di un carabiniere come Presidente del Consiglio, vabbè, comunque, mi immagino la Presidenza del Consiglio tutti sull'attenti quando entra Gallitelli, ma insomma, non è tanto questo, ma oggi in campagna elettorale Berlusconi promette la IVA ridotta sul mangiare per i cani, IVA ridotta sul mangiare per gli animali, e l'altro invece propone gli 80 euro anche per le famiglie, e il Movimento 5 Stelle ovviamente proporrà onestà, onestà e vediamo che cos'altro. Beh, insomma, almeno quella non costa, anzi, costa in termini di crescita di un paese se le leggi che ci fanno sono sempre più difficili da rispettare. Il Presidente d'Italia Nostra a proposito di onestà e onestà oggi, in chiesta avrebbe arraffato un po' troppi soldi dall'associazione benefica, vediamo anche questa se è una fake news o c'è. La cosa che più mi è piaciuta oggi è la denuncia sul Corriere della Sera dei maestri fantasma, i professori fantasma, a proposito di onestà e onestà, cioè la sindacalista e la professoressa che ci spiegano perché a Milano ci sono tantissime sedi e professori che non si presentano a scuola perché quelli che dovrebbero darci il nostro futuro, insegnare, la buona scuola e tutte queste minchiate qua, non si presentano a scuola e fanno il certificatino medico e fanno, ed è una cosa incredibile perché i presidi non possono prendere i supplenti per pochi giorni, questi hanno malattie di petizione, la sindacalista cosa dice? Rispettano le leggi e se stanno male. La realtà che tutti voi sapete, chiara, limpida, che in tutti i paesi avviene, è che a Milano non arrivano i siciliani, i calabresi e i pugliesi che sono entrati nelle liste perché gli fa fatica a spostare le città, cosa anche comprensibile se uno a 60 anni entra in ruolo o a 50 anni entra in ruolo, però insomma mi sembra che questa sia proprio l'idea di un'Italia di merda, cioè l'Italia che ha dei diritti, ha dei doveri, non rispetta negli altri, insomma intanto come dice Luigi Ranieri si stanno sparando le canne, cosa che fanno bene questi ragazzi perché non c'è un professore, è meglio che se sparino una canna, si obnubilino completamente in maniera tale che loro non capiscono dove si trovano, neanche in Italia. La professoressa del Virgilio invece che ha fatto la denuncia proprio contro le droghe a scuola e contro le occupazioni, ovviamente mollata dal ministro sindacalista dell'istruzione La Fedeli, la quale si preoccupa molto che la si chiami ministra con la desinenza giusta, si preoccupa poco di difendere il preside del Virgilio, donna, che cacchio da sola fa una battaglia contro l'illegalità in quella scuola. Questo è il problema delle donne, non il problema della violenza, dell'atteggiamento maschilista e omofoba. Ma se una ministra donna dell'istruzione non difende la preside donna del Virgilio e dice che hanno ragione i ragazzi a fare quello che fanno e quattro viziati di merda in quella scuola, allora io direi che invece di occuparci dell'omofobia ci occupiamo di questa scarsa attenzione delle istituzioni nei confronti di una preside lasciata sola del Virgilio. Va bene? Ma comunque i temi sono ovviamente quelli della Boldrini, servono più soldi per fare questi inutili centri antiviolenza dove ci saranno quattro cooperative che mi spiegheranno che la violenza è nei confronti dei transgender, perché ho sbagliato la desinenza. Bene, andiamo avanti così. Bellissimo. Il pezzo, scusatemi, di Bartezaghi oggi su Repubblica riguardo al fatto, è un pezzo diciamo nei commenti, una di quelle cose minori che non si leggono ma molto interessante, diceva insomma questo dibattista che molla dall'idea della politica un po' diversa da quella che immaginavamo noi. La politica secondo lui è una tecnica che si dovrebbe affinare col tempo, mollare una sedia e quindi vuol dire non affinare la propria conoscenza della politica. Devo dire che l'annunziata scrive veramente male, oggi ho provato a leggere il giovane Silvio alla sfida con l'ex premier, cioè Berlusconi contro Renzi. L'annunziata ha tante doti, è una donna molto intelligente ma l'italiano, cioè la scrittura non è il suo forte, neanche il mio, perciò da quale pulpito arriva, però devo dire obiettivamente leggere i pezzi dell'annunziata mi fanno veramente fatica. Prima pagina del sole, del, come si chiama, della stampa. Poi Dulcis in fundo, chissà se si dice così perché la mia conoscenza del latino è pari a quello dell'annunziata, e l'intervista oggi sul Corriere Economia, cioè l'inserto economico del Corriere della Sera di Bonomi, quello falso, cioè il Bonomi vero è una grande famiglia di imprenditori milanesi che è un po' decaduta, ma uno dei Bonomi, quello vero, è un grandissimo investitore con i suoi fondi, ha comprato un sacco di aziende. Questo è il Bonomi falso, cioè falso dal punto di vista diciamo della conoscenza pubblica, perché è verissimo, perché anche lui ha il diritto di chiamarsi Bonomi, ma è anche il Bonomi vero, perché è il presidente dell'Asso Lombarda. E uno dice, ma questi devono aver fatto una scuola per diventare e per passare il loro tempo in Confindustria, perché oggi leggi un'intervista al presidente della Confindustria più importante italiana, cioè l'Asso Lombarda, mi sembra che sia una delle più importanti, e capisci che quello è un mestiere. Cioè o fai politico, o vai a Roma, oppure fai il presidente di una Confindustria locale, ti prendi una vicepresidenza, vai a Roma, ti pagano il treno o l'aereo, dici delle cose intelligenti, puoi fare qualche nomina sempre che glielo permette il suo dante causa, cioè Rocca, il fratello che lavora meno in azienda, ma che quindi si è occupato dell'Asso Lombarda. Quindi questo Bonomi oggi fa un'intervista di quelle toste, perché io vi dico soltanto l'incipit dell'intervista. Io, devo dire, sono un gentilino, cioè è difficile che le mie interviste siano cattive, però iniziare così è partito alla grande Carlo Bonomi. Quindi questo è l'incipit dell'intervista del Corriere della Sera. Fermi tutti, arrestatemi! È partito alla grande Carlo Bonomi. Ma porca puttana, è un incipit così? Manco io, non so, a mio figlio, è partito alla grande nella sua scalata alla Confindustria. È una cosa pazzesca, vabbè, dopo questo incipit incredibile, poi sapete perché è partito alla grande? Perché ha fatto l'assemblea della Confindustria alla Scala. Vabbè, e qui a Roma allora, che è un'altra Confindustria che conta abbastanza, gli hanno fatto l'auditorio. È partito alla grande perché ha fatto l'assemblea della Scala. È una cosa fantastica. Ma chi se ne frega? Ma le imprese? Ma che gliene fotte che ha fatto l'assemblea della Scala? La facesse in uno scantinato se ci avesse qualche cosa da dire. Ma comunque, è partito alle grande Carlo Bonomi. Beh, e sentite qual è lo slogan di questa intervista. Sarebbe tutta da leggere, perché dovreste tenervela a casa e capire cosa è diventata la Confindustria. Il Nord deve avere il coraggio di prendere la leadership e darsi una direzione per crescere. Giuro, giuro, giuro. Qua sta cadendo tutto e questo mi dice, il Nord deve avere il coraggio di prendere la leadership e darvi una direzione per crescere. Ma come parli? Ma come pensi? Ma che questo è il presidente veramente degli industriali della più importante regione italiana? Ma prenditi un paga con i soldi dei tuoi associati, uno che ti faccia delle interviste un po' più decenti di queste. Ma non ce l'hai un ufficio stampa? L'ufficio stampa deve fare due cose. Prima dire alla giornalista scusami, non iniziare, è partito alla grande, perché qualsiasi persona dice non esagerare, sento, mi mette in imbarazzo. E poi l'occhiello, il Nord deve avere il coraggio di prendere la leadership e darsi una direzione crescente. Ma chi te può seguire? Ma quello che ha un'azienda può veramente essere rappresentato da questi qua? Uno che deve pagare le tasse, deve prendere gli imprenditori, deve fare gli accordi, deve andare all'estero, deve esportare, deve parlare con le banche a un'azienda, deve cercare di capire qual è il suo mercato, deve parlare le lingue se non se lo fottono? Beh, quello lì deve pensare che questo è il suo rappresentante. Ciao!